Cari amici lettori. È stato annunciato il vincitore della ventottesima edizione del premio letterario britannico, Women's Prize for Fiction, dedicato alla migliore opera di fiction pubblicata nel Regno Unito nel corso dell'anno precedente all'assegnazione del premio, da concorrenti di solo sesso femminile, e anche la giuria è composta esclusivamente di donne. La vincitrice dell'anno 2023 è Barbara Kingsolver con il romanzo Damon Copperhead. La presidente della giuria, Louise Minkin, ha elogiato il libro come imponente e significativo, sottolineando la sua capacità di denunciare i problemi che affliggono l'America contemporanea. Il romanzo ha saputo catturare l'attenzione dei giudici per la sua ottimistica dolcezza, la resilienza del protagonista e la sua determinazione nonostante le avversità. La scrittrice lascia un'impronta indelebile nella storia del Women's Prize for Fiction, diventando la prima scrittrice a vincere il prestigioso premio per la seconda volta, dimostrando ancora una volta il suo talento narrativo e la sua capacità di affrontare tematiche complesse e attuali. La sua scrittura, acuta e coinvolgente, ha il potere di spingere i lettori a riflettere sulla condizione umana e sulla società in cui viviamo. Damon Copperhead si inserisce in una lunga tradizione letteraria che trae ispirazione dalla grande opera David Copperfield di Charles Dickens. Kingsolver trasporta la storia vittoriana nell'America contemporanea del Sud, mantenendo viva l'ira e la compassione di Dickens e dimostrando ancora una volta l'incredibile potere di una buona storia. Di seguito la trama del libro inedito in Italia. Chiunque ti dirà che i nati in questo mondo sono segnati fin dall'inizio, vincere o perdere. Ambientato nelle montagne della Palachia Meridionale, questa è la storia di un ragazzo nato da una madre adolescente in una roulotte, senza altro patrimonio se non la bellezza e i capelli ramati del padre morto, un'intelligenza e un talento feroce per la sopravvivenza. In una trama che non si ferma mai, raccontata con la sua voce senza censure, affronta i pericoli moderni dell'affido, del lavoro minorile, delle scuole disastrate, del successo sportivo, degli amori disastrosi e delle perdite schiaccianti. Attraverso tutto ciò, si confronta con la sua invisibilità in una cultura popolare in cui persino i supereroi hanno abbandonato le persone delle zone rurali a favore delle città. Molte generazioni fa, Charles Dickens scrisse David Copperfield dalla sua esperienza come sopravvissuto alla povertà istituzionale e ai danni che essa causa ai bambini nella sua società. Questi problemi non sono ancora stati risolti nella nostra. Dickens non è un prerequisito per i lettori di questo romanzo, ma ha fornito l'ispirazione. Trasponendo un epico romanzo vittoriano nel contemporaneo sud degli Stati Uniti, Barbara Kingsolver si avvale della rabbia e della compassione di Dickens e, soprattutto, della sua fiducia nei poteri trasformativi di una buona storia. Damon Copperhead parla ad una nuova generazione di ragazzi perduti e per tutti coloro che sono nati in luoghi bellissimi e maledetti che non possono immaginare di abbandonare. Grazie per l'attenzione. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.